La gravatta ben messa è uno dei tratti di genio che non si analizzano né si insegnano, si sentono e si ammirano. Al terzo giorno, che stava lì sulla gruccia, le altre non stavano più nella pelle, che persino loro erano molto belle, ma la preferita era lei, poveruccia. Non ti vuole più? Ti sta tradendo? I uomini così son fatti, lo sai? Un attimo prima non ti lascerebbero mai e poi sembra che stiano solo giocando. Dimmi ti prego, cos'è che succede che io non capisco perché non mi indossi? Né me né righina con i pua rossi, perché non ci vuole? Angosciata. Cara la mia, colore del glicine, son giorni che non mette né te né noi tutte. Sarà in una delle sue fasi brutte, né esce, lo sai, ma non è sempre facile. Ma mette la tuta, i jeans e la polo e se anche fosse, che ci sarebbe di mare. Un uomo elegante non si veste mai uguale. Non so, a me sembra che si senta un po' solo. Ho sentito alla radio che c'è una specie di peste, suona impettita la vecchia Pallini. Hanno detto che bisognerebbe non stare vicini. Ma noi siamo qui, né ufficio, né feste, bugugna pettegolo con suo farfallino. Sta zitto che tanto a te non ti vuole, gli dice quella con le rose e le viole, dimenticata anche lei sotto un maglioncino. Si chiama Corona, questo virus che a un tratto ha chiuso in casa dall'oggi al domani, professori, bancari, elettricisti, artigiani e anche lui, scrittore un po' matto. Se anche lavori da solo al pc e non devi uscire nemmeno di casa, non dimenticarti della tua amica rosa e non la lasciare così chiusa qui. Che ti ha fatto forza negli incontri più duri, che è stata tua amica nelle feste felici, che te l'hanno invidiata un sacco di amici e adesso languisce tra questi due muri. Il virus si batte lavando le mani, restando lontani e non starnutendo, lavorando da casa e anche ridendo. Il virus si batte vestendosi bene. Tra le molte cravate invidiose tra loro, finalmente incomincia farsi strada un'idea. Che non c'è la migliore, la mia, la tua, che in tempi un po' duri l'amicizia è oro. È la preferita a soffrire di più, che non c'era giorno che non la cercasse e se non la metteva era per apparire diverso, che mica poteva vestirsi sempre di blu. Capisce anche lei che l'amore non è stare sempre vicini, appiccicati, che anche se ci hanno allontanati, se tu mi vuoi bene, io amo te. Grazie.